oggi ho parlato molte volte della dell'aiuta allora questo è un guadennone non male che ho comprato però io l'ho trasformato in un'altra una specie di lo chiamo strappaiuta strappaiuta dalla corda qua di uta che che ha lo faccio vedere come all'interno innanzitutto si apre togliendo questa piccola corda di uta è da qui che l'ho chiamato strappaiuta in realtà sono i fogli che vengono strappate non nell'aiuta qui ho tolto la prima corda di uta da questi fori fatte da me qui sono due for uno qui e uno qua si tira anche di qua la corda di uta da questo foro poi anche da questa parte da questo foro qui che è la parte interna del foro esterno e qui tutto la corda di uta con i vari fogli questi in origine era un guadennone di foglio di interza elementare ho scelto questo della tezza elementare perché ci sono questi piccoli richi i fogli che sono divisi in tanti parte allora ci sono questi e qui di questo formato qui piccoli e poi sono destrappati in modo in modo nonno molto particolare non classici e lo tagliate in quattro formati in queste piccole strisce qua in questi è sempre di strisce qua è più più grande e ci sono questi qua in finale tra i quarti ma questi con queste righe qua e poi ci sono questi qua a vista a seconda delle delle cose che una di serve scrivo piccoli appunti piccole diciamo parole così utilizza queste qua strisce eppure c'è questa qua a scrivo se più di più e poi c'è anche queste qua si possono fare anche se vuole disegnare non perché ci sono le ricche non è importante e poi si può utilizzare questo qua anche con a quadretti lo chiamo ho chiamato questo genere di coso perché ho creato io lo chiamo strappaiuta dalla corda di uta che con cui è fatto ogni gruppo di di foglie a a un nodo qui abbiamo questo gruppo di questa strisce c'è qua un nodo in queste qua in secondi qua a un altro nodo in quest'altra ancora ho fatto un altro nodo e infine c'è l'altro nodo a questo è un altro nodo e a seconda come ho già detto a quali foglio ci serve una persona può strappare o questo o quella o quelle piccole strisce o l'altra dall'altra parte della copertina c'è soltanto un foro questo foro in atto c'è ancora da migliorare in questo strappa aiuta qui intanto i fogli si tirano quello che servono e si strappano e per poter scrivere allora l'ho chiamato strappa aiuta